buongiorno ma buongiorno sto cazzo ma perché perché è da gaffanculo mamma mia quanto sei bello come come è da gaffanculo come come baffa baffanculo stronzo con rimorchio destra sinistra destra sinistra destra destra sinistra oh fa per bene destra sinistra 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 destra 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 sinistra 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 destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra sinistra ma vaffanculo tu sinistra e destra dopo un po riprendo la cucciola eccola mamma mia ogni tanto mi manca lei riposa un pochino sul garage eccola mi chiedevate dov'era era a riposo si già come rombi oh sembra un giovedì qualunque ma non lo è eh non andamare un po fa vedere tagliato tutto e fa la torta l'è fatta e dove anche la torta mamma guarda come sta appunta che la quai appunto è test qualità come sono sandi raviolo puro si